Domani è il 20 febbraio, il sole sorge alle 7.13 e tramonta alle 17.51, durata del giorno 10 ore e 38 minuti. La luna si leva alle 11.20 e cala alle 1.48. Domani è San Leone di Catania, quindicesimo vescovo della città siciliana, si dedicò a combattere l'eresia in Sicilia. La tradizione narra che Leone II compì svariati miracoli e per questo ottenne l'appellativo di taumaturgo. A lui è dedicato un quartiere di Catania e la splendida basilica di Assoro in provincia di Enna. Il 20 febbraio 2020 a Viareggio si festeggia un giovedì grasso, veramente grasso. Una giornata baciata dal sole che alle ore 18, dopo i tre colpi di cannone, vede svolgersi il quarto corso mascherato. Mai le opere allegoriche avevano sfilato in occasione di un giovedì grasso. L'esperimento della Fondazione Carnevale alla fine di una lunga giornata, cominciata sotto la Torre Matilde, grazie alla festa di Rione Vecchia Viareggio, dove nacque il Carnevale, può dirsi raggiunto. A fare da unione tra le due feste un corteggio mascherato capitanato da Burlamacco e Ondina, che dalla via Regia raggiunge le opere allegoriche. Una giornata che di diritto entra, fa parte della storia della manifestazione. Domattina molto presto, sarai vivo, sarai desto, ma però sarai più mesto, feste e vitto, tra la la, tra la la la, tra la la la, tra la la la.